il nostro club di italiano immagini ed esperienze dei miei alunni descritte in italiano il coniglietto che carino il coniglietto è marrone chiaro il coniglietto mangia una foglia ciao ciao coniglietto un menù in famiglia durante il lockdown una famiglia ha preparato tanti cibi buonissimi italiani ha preparato delle boschette tante buone verdurine bravissimi complimenti conosciamo l'italia attraverso un meraviglioso poster di questa classe year 3 hanno studiato arte geografia la scuola e lo sport italiano molto bene l'italiano deriva dal latino una nostra alunna ha portato a scuola un libro con tante parole latine bravissima abbiamo costruito un poster sulla città di verona la città di romeo e giulietta la città dell'arena dove ci sono magnifiche opere come la ida la traviata molto bravi gli alunni hanno conosciuto la vita di san francesco una bambina ha fatto un post un powerpoint su di lui molto bene bravissima ecco i gattini di una nostra compagna com'è bello come piccolino ecco un altro gattino con gli occhi azzurri bellissimi un alunno è andato a minitalia ora tocca a te manda le tue immagini a maestra delia arrivederci ci vediamo presto ciao bambini ciao